Il 40enne scomparso Guardiaregia, si cerca nei boschi Il 40enne scomparso Vigili del fuoco e carabinieri a lavoro senza sosta per ritrovare luomo di cui si sono perse le tracce ormai da alcuni giorni. La sua auto è stata rinvenuta. Guardiaregia. Ancora nessuna traccia del 40enne di Guardiaregia scomparso da alcuni giorni. Vanno avanti senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco di Campobasso e dei carabinieri di Boiano, concentrate nell'area compresa tra Bocca della Selva e Campitello di Sepino. È proprio in quella zona, infatti, che è stata ritrovata la auto dell'uomo. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stata la compagna dell'uomo, che non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme facendo attivare il piano di ricerca. L'intera zona, parecchio impervia, viene battuta palmo a palmo. Con il passare delle ore cresce le paura per l'uomo, anche in considerazione delle alte temperature che si stanno registrando. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella dell'allontanamento volontario. Grazie.